Io ti risponderei così, cosa portate? La fiducia della relazione interpersonale, che quello che succede basta avere molta attenzione a quello che sta accadendo nella relazione tra due persone per poter cogliere dei significati che non sono immediatamente accessibili e lavorare, cioè non bisogna usare troppe tecniche, non sono tanto le tecniche che le utilizziamo, ma è la capacità di sintonizzarsi sulla relazione, perché quello che cura, quello che può indurre anche momenti piccoli di cambiamento, di trasformazione, di sintonizzazione è esattamente stare nella relazione con una capacità di ascolto molto forte, quindi penso che questo sia il primo passo. Da parte mia suggerirei di fare questo.